Terrore all'aeroporto di Orlì a Parigi. Un uomo si è lanciato questa mattina, poco prima delle 8.30, contro una donna soldato dell'operazione antiterrorismo Santinelle di Ronda al Terminal Sud, con altri colleghi in mimetica e con l'arma a tracolla, come prevedono le regole dello stato d'emergenza. Le notizie sono ancora confuse. Sembra che l'uomo fosse riuscito a prendere brevemente in ostaggio la donna. I militari avrebbero cercato di discutere con lui. Un'operazione di artificieri e poliziotti è tuttora in corso per escludere la presenza di eventuali ordigni o altre minacce per la sicurezza. Evacuato, oltre al Terminal Sud, anche l'altro terminale, Orlì Ovest, dal quale partono diversi voli low cost diretti in Italia. Migliaia di persone sono state fatte defluire dall'aeroporto. Su Twitter la polizia francese invita chiunque a non avvicinarsi al perimetro di sicurezza, con il quale è stata transennata tutta la zona dell'aeroporto. Anche i voli verso lo scalo sono per il momento dirottati altrove.